Benvenuti, grazie, scusate per il ritardo sui lavori, ma è stata una mattinata intensissima. Abbiamo selezionato i vostri animativi dal grandissimo numero di lettere e comunicazioni per i miei che mi sono venuti durante le scorse settimane, gli scorsi mesi di emergenza. Ho dato l'indicazione che fossero un poco le vostre presenze una testimonianza di varie categorie professionali. Noi siamo una piccola azienda di commercio al dettaglio di calzature. La necessaria chiusura, che è stata molto lunga e molto difficile, ci ha fatto perdere 25% del genere, un quarto del nostro fatturato anno. E poi io vorrei fare un accenno al centro di Firenze, della mia città, che io amo moltissimo, che è uno dei fiori all'occhiello dell'Italia. Siamo costati dal centro, senza turisti, con molti negozi che sono già stati smantellati, nelle vie più belle, proprio a causa degli affitti insostenibili. In questo momento in cui il turismo non ha perso un quarto, ha perso il 95%, noi lavoriamo tantissimo con gli stranieri e il nostro problema principale è proprio quello, che mancano gli stranieri. Nel nostro caso abbiamo perso nelle prime due settimane, dal 18 maggio, l'80%, e abbiamo perso nelle due settimane dopo, cioè la terza alla quarta, il 65% del fatturato. Noi abbiamo chiesto il prestito dei 25 mila euro e l'abbiamo chiesto, è stato veloce, tre giorni ho avuto i soldi in conto. Io cosa farei? Continuerei col credito di imposta sugli affitti, a meno fin quando il fatturato non ha raggiunto, non so, il 65-70%, l'IVA. Anche su l'IVA io farei qualcosa. Abbiamo discusso anche, siamo di studente in questi giorni, perché l'IVA potrebbe essere, toccare l'IVA, passarla un po' con il fatto di ragione, potrebbe dare una spinta alla ripresa di consumi, per il credito anche di fiducia. Nel piccolo si fa la musica autentica, bisognerebbe trovare il modo di supportare questi eventi. Se noi riusciamo ad avere un interesse da parte di un pubblico, noi abbiamo fatto bingo. E questa cosa dei parchi pubblici, uno spazio come si fa in tanti paesi dove c'è, il parco pubblico, un'area destinata alle esibizioni. Se da noi venivano, da un parrocchiere mediamente ci vai una volta alla settimana. La cliente è molto più prestia, comunque la paura. Sappiamo che poi arriverà tutto in unica rata, anche se viene tutto sospeso, posticipato, però arrivano. Noi stiamo investendo tutta la patrimonializzazione delle aziende per traghettarle all'anno prossimo. Noi dobbiamo puntare su una ripresa del turismo sostenibile. Il turismo deve essere visto come una risorsa. ... Grazie a tutti.